Il Principato di Sicilia 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 A Pergusa, provincia di Enna E troverete sicuramente la cioccolata più buona Che assaggerete A Pergusa? Provincia di Enna, sì sì Lì è proprio il Principato di Sicilia È proprio lì Eh, ma ci sta pure Agostino È lì, è lì Lo trovo sempre là Grazie Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti